Sei un progettista e desideri imparare a fare i documenti per la sicurezza del tuo cantiere? Beh, sei nel posto giusto, perché in questo video ti mostro un caso studio pratico e reale di come si redigono tutti i documenti per la sicurezza del tuo cantiere e te li spiego passo passo. È un video abbastanza lungo, tuttavia se hai la pazienza di seguirmi fino alla fine avrai compreso non solo come redigere praticamente i documenti relativi alla sicurezza del cantiere, ma ricevi anche due fantastici regali solo se arrivi fino alla fine di questo video. Non diamo nulla per scontato, tuttavia, quando parliamo di sicurezza all'interno nei cantieri. Allora, se parliamo ovviamente della sicurezza degli operai che ci lavorano è sempre sicurezza, ma in particolare quando vanno redatti tutta una serie di documenti e quando interviene una figura fondamentale che è appunto il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. Secondo i commi 3 e 5 dell'articolo 90 del Decreto Legislativo 8108, ovvero il tasto unico in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, quando all'interno di un cantiere è prevista o si manifesta anche durante i lavori la presenza di più o di due o più imprese, anche non contemporaneamente, il committente è tenuto obbligatoriamente, altrimenti viene pesantemente sanzionato, a nominare il coordinatore per la sicurezza. Quindi che vuol dire? Che se in un cantiere, in contemporanea o in momenti anche separati, intervengono due o più imprese, è obbligatoria la nomina del coordinatore. E ovviamente il coordinatore non sta solo lì ovviamente a guardare i lavori, ma deve produrre tutta una serie di documenti che appunto vanno a garantire che i lavori sono fatti in sicurezza. Tra questi documenti che sono relativi alla sicurezza abbiamo il PSC, il POS, il fascicolo dell'opera, il documento unico della valutazione rischi, il PIMUS, il diagramma di Kant, la stima dei costi per la sicurezza, la notifica preliminare e ovviamente il coordinamento dei lavori in fase esecutiva con tutti i verbali di ispezione che deve fare il coordinatore per suo conto in aggiunta a quelli che fa il direttore dei lavori. Perché il direttore dei lavori segue lo svolgimento dei lavori, il coordinatore per la sicurezza si assicura che tutte le misure di sicurezza vengano rispettate e applicate. Tutti i documenti che ti ho detto sono una parte dei documenti che servono, non sono tutti a carico del coordinatore, alcuni per esempio come il POS lo redige l'impresa, ma è il coordinatore che deve controllarlo, quindi ovviamente deve sapere che cavolo c'è scritto, anche perché i POS fanno riferimento comunque al PSC, documento di cui si occupa il coordinatore. Quindi diciamo comunque anche se non sono tutti a carico del coordinatore, ovviamente vanno fatti. Quando ci può capitare di trovare due o più imprese in un cantiere? Se diciamo già stai pensando, ah vabbè ma tanto faccio fare tutto a una quando si tratta di lavori piccoli. In realtà anche per quando si tratta di lavori piccoli, come per esempio la ristrutturazione di un appartamento, è molto frequente che ci sia una seconda impresa almeno che entra in cantiere. Perché solitamente, puntualmente, il committente affida i lavori ad un'impresa, almeno i lavori di edilizia, e poi invece i lavori impiantistici se li fa fare dal cugino che ha la ditta, così e colì, oppure banalmente arriva la ditta che deve montare gli infissi, ok? Quindi un ingresso di una seconda ditta in cantiere, anche per un tempo limitato, come può essere quello del montaggio degli infissi, due giornate lavorative abbiamo fatto per dire, comunque è una seconda ditta che entra in cantiere. La prassi più comune nei cantieri più piccoli è che in genere gli impianti elettrici li viene a fare un'altra ditta. Quindi in realtà è molto frequente, anche nei cantieri molto piccoli, che ci sia la presenza contemporanea di due, di almeno due imprese. E se stai pensando, ah ma io non sono un coordinatore per la sicurezza, non mi interessa questo video. Beh, sappi che le scartoffie ti possono toccare comunque. Infatti, anche se non sei un coordinatore, puoi collaborare in uno studio in cui c'è un coordinatore, che magari preso dai sopralluoghi del cantiere, preso dalla gestione del cantiere, ti delega la redazione dei documenti, per poi magari controllarli solo alla fine e firmarli. Quindi sappi che se non sei un coordinatore, comunque questo video ti può più che interessare. A maggior ragione, invece, se sei un coordinatore, troverai tanti spunti utili e tanta concretezza in questo video. Io, nonostante sia un coordinatore per la sicurezza, ovviamente non ho iniziato subito a lavorare e a firmare come coordinatore. Ho fatto, diciamo, gavetta in uno studio in cui assistevo e aiutavo sia il direttore dei lavori che il coordinatore. Quindi, pur non essendo in quel caso specifico né il direttore dei lavori né il coordinatore per la sicurezza, perché c'erano altri due professionisti che firmavano e che avevano appunto l'assegnazione di tale ruolo, in realtà dietro alle pratiche c'ero io. Quindi dietro alla stesura dei verbali, del PSC, delle relazioni del direttore dei lavori o del coordinatore, c'ero comunque io perché dovevo imparare, perché chiaramente gli faceva comodo delegare questa parte di redazione dei documenti. Quindi, anche se io tecnicamente ero già architetto, ero abilitata come architetto, ero già, avevo già superato l'esame come coordinatore, comunque e in ogni caso, in quel caso non stavo ancora firmando io, lavoravo per questo studio e mi toccavano comunque queste mansioni, pur non avendone in prima parte la responsabilità. Quindi ti assicuro che ti può più che tornare utile, a prescindere che tu sia o meno un coordinatore. Ma perché redigere i documenti per la sicurezza del cantiere non è così scontato e perché ti potrebbe tornare utile questo video? Beh, di fatto non te lo spiega nessuno come fare i documenti per la sicurezza. Allora, prendi con le molle quello che ti sto dicendo, magari sarai stato più fortunato di me. Sì, ci sono i corsi per diventare coordinatore, io sono coordinatore per la sicurezza. Allora, io ho fatto il corso come coordinatore, un corso validissimo tra l'altro, di cui sono contenta, quindi che mi ha insegnato effettivamente cosa deve fare un coordinatore, ma non come proprio fisicamente e praticamente redigere i documenti che sono necessari. Infatti, durante il mio corso da coordinatore per la sicurezza, svolto tra l'altro durante, in contemporanea, il mio ultimo anno di università, quindi io mi sono laureata a gennaio 2013, e a febbraio 2013 ho sostenuto l'esame come coordinatore, perché in quell'anno, nell'ultimo anno del mio corso di studi, l'università promuoveva, in collaborazione con il CEFM CTP, un corso da 120 ore proprio per diventare coordinatore. Quindi io ho accolto l'occasione, ero a buon punto con gli esami, e quindi ho seguito anche questo corso durante l'ultimo anno di università. Quindi, fondamentalmente, io mi sono laureata, a distanza di sei mesi, un anno, ho preso l'abilitazione, ed ero già coordinatore, quindi potevo già giocarmi questa carta. Eppure, nonostante, ripeto, il corso come coordinatore mi è stato estremamente utile anche per capire un po' le dinamiche del cantiere, sapevo perfettamente cosa diceva la normativa, quindi era stato un corso molto valido da questo punto di vista, sapevo cosa ci si aspettava da un coordinatore, quali documenti doveva redigere, cosa doveva fare, che parte della normativa doveva rispettare, ma nessuno ci aveva spiegato come proprio fisicamente andare a scrivere un PSC, come andare a scrivere, cosa ci va dentro un verbale di sopralluogo o di un coordinatore. Quindi, tutta, come al solito, diciamo, purtroppo nella formazione italiana, siamo bravissimi nella teoria, ma all'atto pratico, io non sapevo dove mettere mano su un documento scritto. E se ti sei trovato, magari anche tu, a frequentare un corso del genere, o magari sei stato più fortunato di me, ti hanno fatto fare delle prove pratiche, in cui andavi proprio a redigere un PSC, e così via. Ma, nel mio caso, avevo tanta teoria, sapevo esattamente quali erano gli obblighi a livello di normativa di un coordinatore, quindi sapevo farti perfettamente l'elenco, devi redigere il PSC, devi controllare i post, eccetera, eccetera. Ma poi, di fatto, come questi documenti si andavano a fare nel concreto, io l'ho imparato facendo la gavetta in questo studio, proprio perché era piccolo, ma funzionava molto bene, c'era appunto il direttore dei lavori e il coordinatore, e io ero di supporto, assistevo entrambi, e quindi lì ho imparato a redigere tanto tutti i documenti che competono al direttore dei lavori, quanto tutti i documenti che competono al coordinatore, anche perché, t'ho detto, a un certo punto comunque me li delegavano a me, poi loro li controllavano solo e li firmavano, quindi poi andavo in cantiere con loro, quindi da lì, insomma, ho imparato effettivamente la parte pratica dell'essere un coordinatore, che come al solito è difficile trovare in giro. Quindi, da autodidatti, ovviamente, senza una giusta guida, è difficile, veramente difficile comprendere l'intero processo e soprattutto capire come si fanno concretamente le cose. Se deleghi qualcun altro, perché puoi anche scegliere, dici a me non interessa, io trovo un collega che è coordinatore e gli delego tutto, ok, ma non hai il controllo della situazione, quindi o in ogni caso, se anche scegli di delegare, ma non sai come si fanno le cose, ti devi prendere per buono tutto quello che ti arriva dal collega a cui hai delegato. Un occhio in più non fa mai male, anche in buona fede ci si può sbagliare, quindi comunque essere padroni della materia, gestire il processo a 360 gradi è comunque fondamentale per avere effettivamente il controllo della situazione. Già, quando si fa tutto per bene, quando si fa tutto sulla punta della matita, qualcosa può sfuggire, perché in un cantiere ci sono veramente tante cose di cui bisogna tenere conto, a partire dalle scartoffie, dalla parte proprio pratica del seguire i lavori, fare le foto, fare i documenti, le relazioni, i verbali e così via. Quindi ci sono tante cose, poi spesso difficilmente si segue un cantiere alla volta, spesso si ha l'occhio e la gestione di più cantieri in contemporanea, quindi se a maggior ragione non c'è dietro le quinte un pieno controllo dell'intero processo, beh, può diventare realmente complicato. Quindi in questo video è mia premura fornirti i giusti principi e la giusta mentalità per approcciare i documenti e la gestione di un cantiere in completa sicurezza, mostrandoti un caso pratico reale di un progetto che io ho seguito ormai anni fa, in cui ti mostro proprio praticamente come poter realizzare i documenti per la sicurezza. Ecco perché è fondamentale che mi segui fino alla fine, proprio perché questa non è una lezione teorica, tranquillo, tra un po' smetto di parlare e vado subito sul concreto, ti mostro proprio direttamente il mio computer e perché questo appunto sarà un video pratico, ricco di contenuti contestualizzati alla pratica proprio della professione. Ma prima di partire a manetta sulla parte pratica, permettimi un attimo di presentarmi. Mi chiamo Giada Capodilupo, sono un architetto e un coordinatore per la sicurezza. Oggi devo dire molto soddisfatto, titolare del centro di formazione Adar Architettura e nel tempo ho scoperto che la mia mission è insegnare ai progettisti come me a risparmiare tempo attraverso l'apprendimento di competenze e anche software e tool attualmente richiesti nel mondo del lavoro. Come ti ho detto, non è stato sempre così. Quando ho iniziato avevo tanta teoria, un bel bagaglio diciamo teorico-culturale perché era una secchiona, studiavo tanto, studio tanto, tutto era, ma la parte pratica proprio mi mancava. Quindi l'ho dovuto fare tanta gavetta, diciamo in quello studio, che anche se mi ha sfruttato economicamente, mi ha dato tanto dal punto di vista di conoscenza e ho dovuto proprio rimboccarmi le maniche perché avevo capito che purtroppo quello che avevo imparato durante il mio percorso di studi, sì aveva un valore, ma a livello pratico purtroppo mi serviva poco perché c'erano tante altre cose che dovevo imparare. Quindi l'intenzione che ho in questo video è proprio di fornirti qualche perla, anche se un solo video chiaramente non può essere completamente esaustivo, qualche perla pratica di come redigere i documenti per la sicurezza del tuo cantiere. Ovviamente raccontata così, diciamo, la mia carriera lavorativa sembra stata molto facile, semplice e veloce. In realtà dietro c'è stata tanta fatica, tanta voglia di mettersi in discussione, tanto studio, tante difficoltà. Pensa che io a 28 anni, appena uscita dall'università e dopo aver fatto una buona pratica comunque presso questo studio, presso più di uno studio, ho aperto il mio centro di formazione e il mio studio di architettura. Quindi non perché ovviamente mi sentivo imparata, ovviamente ho continuato a studiare, ma avevo capito che avevo imparato tante cose che potevano essere utili ad altri progettisti come me e quindi da qua il desiderio di condividere le cose che avevo imparato, soprattutto da un punto di vista pratico, perché io sono una persona pratica e concreta, e da lì quindi è nato il mio centro di formazione ad Ararchitettura, dove insegno non solo i software, ma anche tutta la parte pratica della documentazione di cantiere che è necessaria a supportare il lavoro del progettista. Lo scopo di questo video quindi è spiegarti come fare i documenti per il cantiere in modo più agevole e in minor tempo. E se pensi che io non posso aiutarti, guarda le testimonianze dei miei cursisti, guarda chi si è formato da me e quale vantaggio competitivo ha ottenuto grazie al mio metodo, che come ti ho detto non solo è molto pratico, ma ti fornisce anche tanta assistenza H24 senza scadenza, proprio perché credo fortemente in un insegnamento concreto che trasmetta reali competenze lavorative senza abbandonarti mai nel tuo percorso di crescita, che di fatto non finisce mai, perché puoi imparare una cosa oggi che di fatto magari ti ritorna utile domani o piuttosto fra un anno, magari non la ricordi bene, noi siamo sempre a disposizione per supportarti nel tuo lavoro con la nostra assistenza senza scadenza. Quindi la vera differenza tra un servizio che ti forma e basta e un servizio che ti garantisce un follow up a vita è proprio quando riscontri un problema a distanza di X mesi, di X anni e hai ancora qualcuno a cui affidarti, con cui confrontarti. Ma stop alle chiacchiere, andiamo subito al concreto. Ti voglio presentare il vero protagonista di questo video, ovvero il progetto di ristrutturazione straordinaria di cui ci andiamo ad occupare in questo video. In realtà questo video è una seconda parte di un video che è già uscito qualche mese fa, ti metto il link qui sopra o qui sotto a questo video così puoi andarlo a vedere, in cui abbiamo preso questo stesso progetto e ne abbiamo fatto insieme il computometrico estimativo. Quindi, proprio il titolo del video è A caso studio pratico di un computometrico estimativo. Quindi il progetto è stato già ampiamente spiegato nel video precedente. Nel video precedente abbiamo trattato la redazione del computometrico e se non l'hai visto ti invito ad andare a vederlo perché questo secondo video è una naturale prosecuzione di questo primo proprio perché ripartiremo da quel famoso computometrico e da quello stesso progetto e da lì utilizzeremo il documento del computometrico come base di partenza per fare il nostro piano di sicurezza e coordinamento, il nostro PSC e anche tutti gli altri documenti che servono per gestire la sicurezza nel cantiere. Ti rispiego brevemente in che cosa consisteva il progetto e di conseguenza il suo computometrico. Ripeto, sarà una spiegazione veloce dato che l'abbiamo trattato ampiamente nel precedente proprio perché in questo video facciamo un passo avanti e generiamo il PSC ripartendo proprio da quel computometrico. L'appartamento al momento del mio arrivo presentava un ingresso direttamente dal vano scala del condominio con un piccolo soggiorno e una cucina chiusa ed abitabile con un balcone. Il corridoio portava alla zona notte e al bagno la zona notte era costituita da due camere come puoi vedere. L'appartamento confinava con un altro appartamento la strada, il vano scala e dall'altro lato ancora un altro edificio gemello. Le camere in questa ristrutturazione non sono state toccate gli è stata data solo una rinfrescata alle finiture. Quello che è stato fatto invece è stato aprire la cucina per creare una zona giorno più ampia chiudendo l'ingresso originale della cucina per utilizzare quella parte per l'alloggiamento di tutti gli elettrodomestici principali. La porta d'ingresso della zona notte è stata leggermente spostata in modo da ottimizzare il muoversi all'interno degli spazi ed è stata cambiata la pavimentazione dell'appartamento con comprese le porte che sono state rifatte completamente. Il bagno è stato ristrutturato completamente non tanto la posizione degli arredi fissi come per esempio i sanitari ma è stato proprio rifatto nelle finiture. Infine è stata data una rinfrescata a livello di pittura alle pareti. Quindi come puoi vedere è un appartamento molto piccolo con un intervento da parte... insomma è veramente molto piccolo ma tuttavia nel momento in cui la parte impiantistica è stata delegata a una seconda impresa si è reso necessario l'intervento del coordinatore e quindi la redazione di tutti i documenti per il cantiere. Quali sono gli strumenti o meglio lo strumento ce ne basta uno solo in questo video che andiamo ad utilizzare per redigere i nostri documenti per la sicurezza. Andiamo ad utilizzare il software Euclide Sicurezza Cantiere software della GeoNetwork e che ci aiuta a redigere i nostri documenti in modo da fornire una corrispondenza esatta fra appunto i documenti prodotti e la normativa vigente ovvero il decreto legislativo 8108 aggiornato al nuovo codice degli appalti numero 36 del 2023. Ma perché ho scelto proprio questo software rispetto ai... no, migliori no, però rispetto ai tanti che ci sono sul mercato. Allora, innanzitutto ha un ottimo rapporto qualità-prezzo io l'ho conosciuto in quel famoso studio in cui ho fatto la gavetta mi sono trovata molto bene anche grazie non solo al rapporto qualità-prezzo che poi ho sostenuto per l'acquistare la licenza quando ho iniziato a lavorare per conto mio ma ciò che ha fatto realmente la differenza nella scelta è stata l'ottima assistenza remota che forniscono che per me, che so che anch'io fornisco assistenza ai miei corsisti so quanta fatica ci vuole nel fornire un'assistenza così e l'ho trovata davvero valida infatti non solo si ha la possibilità di scrivere un ticket o di inviare un'email ai tecnici che comunque ti rispondono in tempi brevi ma in particolare se c'è qualche funzione che non riesci ad utilizzare all'interno del software Euclide ha una, o meglio la GioNetwork in sé per i suoi software offre un fantastico servizio di assistenza da remoto quindi puoi telefonare al tecnico che ti risponde e se necessario si collega in diretta sul tuo computer e risolve il problema praticamente istantaneamente quindi questa è una cosa che per me ha un valore altissimo a maggior ragione che so la fatica che c'è dietro quando vuoi effettivamente dare un servizio di assistenza continuativo a chi ti segue ed è veramente un ottimo servizio che fa la differenza Un altro punto a favore di Euclide Sicurezza e Cantieri è che permette di creare piani di sicurezza rispondenti alla normativa vigente in modo semplice e del tutto personalizzabile grazie anche all'ausilio di più di 700 fasi lavorative complete dei loro analisi di rischi, apprestamenti, macchinari e attrezzature quindi veramente devi fare più un'operazione di controllo che non di creazione completamente da zero e inoltre se non avessi un piano da cui partire ti fornisce più di 100 piani tipo che rispondono alle esigenze dei cantieri più comuni che poi ovviamente puoi andare a personalizzare infine è un only one infatti molti altri software utilizzano moduli moduli che bisogna installare a parte in Euclide invece puoi fare all'interno di un'unica interfaccia tutti i documenti necessari POS, PSC, PSS, Duvri e così via è perfettamente collegato con Euclide Compute e Contabilità l'altro software della GeoNetwork per poter redigere i computi metrici ed è stato uno tra i primi a contenere l'analisi dei rischi e i principali listini prezzi delle opere adere pubblicati in Italia consentendo così di ricavare automaticamente tutte le lavorazioni effettuate in un determinato cantiere a partire dal computo metrico ma veniamo ai nostri documenti per la sicurezza in particolare al piano di sicurezza e coordinamento e appunto lo andiamo a fare dentro Euclide Sicurezza e Cantieri se desideri seguirmi a mano a mano in questo video puoi scaricare anche tu Euclide Sicurezza e Cantieri regandoti sul loro sito web e andando a scaricare la versione di prova dimostrativa completamente gratuita devi ovviamente registrarti quindi creare un account e dalla tua area riservata puoi andare a fare il download dell'installazione che è del tutto automatica del software così puoi seguirmi mano a mano che ti mostro come si crea da zero un piano di sicurezza e coordinamento eccoci all'interno di Euclide Sicurezza e Cantieri questa è l'interfaccia base che si apre non appena avviato il software e ovviamente dobbiamo dire che tipo di lavoro vogliamo iniziare a fare per attivare chiaramente la toolbar allora noi andiamo a cliccare su file nuovo e già come vedi possiamo scegliere tra modelli standard oppure dei modelli semplificati quindi già qui possiamo andare a valutare l'uno piuttosto che l'altro noi clicchiamo su modelli standard e qua ci appare una distinzione fondamentale se vogliamo procedere da modello e in questo caso possiamo andare a scegliere fra più di 70 modelli con 700 fasi lavorative contenute al suo interno come vedi quindi si adattano veramente un po' a tutte le esigenze e poi chiaramente vanno personalizzati inoltre possiamo specificare che tipo di documento vogliamo andare a fare per esempio un PSC per il piano di fattibilità per il progetto preliminare definitivo o la redazione del PSS in alternativa al PSC quindi da modello avviamo un processo di autocomposizione attraverso una procedura guidata che possiamo andare a fare se non abbiamo un documento da cui partire ma noi abbiamo un documento da cui partire ovvero un computometrico quindi il computometrico che abbiamo generato nel video precedente quindi ti invito sempre ad andarlo a rivedere laddove non lo avessi ancora visto prima però di caricare il computometrico dobbiamo specificare con quale listino andiamo a lavorare quindi nel nostro caso almeno io vado a lavorare con il listino della regione Lazio e cliccando su avanti abbiamo la possibilità di importare il computometrico dunque quali formati sono accettati? quindi ovviamente il primo che Euclide Sicurezza ci suggerisce è il computometrico nativo della casa Euclide ovvero quello proveniente da Euclide Compute e Contabilità il software per la creazione dei computimetrici che è quello che noi andremo ad utilizzare quindi io lascerò specificato questo e qua mi vado a cercare il percorso volendo se mi vuoi seguire nello svolgimento dell'esercizio puoi provare a selezionare invece un computo di prova oppure se hai un vecchio computometrico in formato Excel lo puoi utilizzare mi spiego meglio infatti il formato accettato di computometrico non è l'unico quello di Euclide non è l'unico accettato i formati che vengono accettati dal software sono quelli nativi della casa Euclide quelli provenienti da Primus WinExchange i file .dbfdb i file di testo delimitato o a lunghezza fissa txt e qua voglio spendere una parola in più infatti ti voglio mostrare eccolo qua il computometrico del progetto che ho seguito in versione Excel allora io banalmente l'ho esportato da qui quindi io avevo già Euclide ho fatto non l'esportazione bensì la stampa quindi sono andata su stampa computometrico l'ho esportato eccolo qua anziché in pdf in formato Excel come puoi vedere insomma ci sono vari formati io ho scelto l'Excel ok adesso non faccio stampa chiaramente perché l'ho già stampato e il risultato è stato questo file Excel qui diviso in due fogli uno contenente tutte le elencovoci e l'altro il quadro economico ovviamente nel senso se tu hai un quadro un computometrico in Excel lo puoi utilizzare e seguirmi in questa dimostrazione nel mio caso perché ho esportato un Excel perché ovviamente come hai potuto vedere Euclide sicurezza non accetta un file Excel come input ma accetta un file TXT allora la notizione è che qualunque file Excel può essere salvato con nome in formato te lo faccio vedere eccolo qua dove è TXT cioè eccolo qua uno o due ovviamente è a seconda se utilizzi il Mac piuttosto che un Windows se io ho utilizzato questo come formato quindi questo qui e nel momento in cui l'ho salvato con nome adesso questo lo posso chiudere ho ottenuto un file .txt fatto così ovviamente non lo devi nemmeno andare a guardare ma ho potuto importarlo come file TXT direttamente dentro Euclide sicurezza cantieri quindi anche se non hai Euclide computo o hai un vecchio computo o l'ultimo computo che hai realizzato lo hai in Excel puoi comunque lavorare su Euclide sicurezza cantieri è ovvio che i due software se utilizzi Euclide computo e computabilità per realizzare il computo metrico è chiaramente meglio perché ovviamente i due software si parlano molto meglio fra di loro essendo della stessa casa produttrice e non solo l'importazione di un computo prodotto da Euclide computo e contabilità e importato dentro Euclide sicurezza cantieri consente di integrare i dati già elaborati da Euclide computo e contabilità e le importazioni di tutte le voci di computo vengono indicate come oneri indiretti di conseguenza è molto più semplice generare in automatico la stima dei costi per la sicurezza quindi chiaramente è facilitato il passaggio all'interno dello stesso software della stessa casa produttrice ma comunque si può fare quindi il lavoro che hai fatto precedentemente se non avevi Euclide computo e contabilità comunque non è buttato perché come hai visto lo puoi utilizzare detto questo ovviamente io nel mio caso vado ad importare direttamente il file quindi lascio il file proveniente da Euclide computo e contabilità quindi lascio questo tu ovviamente se hai un file Excel lo puoi convertire in TXT e seguirmi in questo modo vado a prendermelo eccolo qua quindi ho selezionato la cartella in cui ho il contenuto e lo vado a spuntare ti faccio una premessa qualunque modalità tu scegli anche quella di creazione da zero di un PSC a partire da un modello standard da personalizzare comunque qualunque è la tua base di partenza un modello standard, un computometrico un computometrico proveniente da Euclide il processo che segue da qui in avanti è molto simile quindi non ci sono cambiamenti abissali se parti da un modello semplificato da un modello standard da un modello tra quelli presenti da un computometrico e così via quindi la procedura è molto molto simile pertanto te la mostro questa volta con questo computometrico visto che comunque andiamo a proseguire quello che abbiamo fatto nel video precedente ho selezionato il computometrico clicco su avanti allora come puoi vedere dobbiamo rispondere a tutta una serie di domande che il software ci fa per sapere come è composto il nostro cantiere quindi in questa fase grazie a questa procedura guidata noi stiamo andando a dire al software come è composto il nostro cantiere e di conseguenza quali rischi si porta dietro allora adesso nel mio caso abbiamo un appartamento all'interno di una palazzina quindi è veramente molto molto spiccio il cantiere però non per questo è privo di rischi e poi come ti ho detto è effettivamente una casistica reale perché nel momento in cui nel tuo cantiere entrano due o più imprese come magari in questo caso una per fare tutti i lavori e l'altra solo per gli impianti comunque questi documenti vanno fatti una cosa importante dare sempre tutte le risposte cioè non necessariamente subito ma per ogni cosa bisogna dire se c'è o non c'è e come è fatta se invece lasci nessuna risposta Euclide te lo richiederà dopo la compilazione quindi se già sai che alcune cose nel tuo cantiere non ci sono proprio metti direttamente non presente non lasciare diciamo questa spunta vuota cioè se lasci questa spunta lo puoi anche fare perché chiaramente puoi magari non saperle tutte subito devi vedere magari un attimo come organizzarti però se non ci rispondi adesso ci devi rispondere dopo quindi se lo sai ovviamente metti o se non è presente o se c'è come viene fatto ovviamente nel nostro caso l'area di cantiere è un appartamento quindi esiste già da sé che perciò non è presente diciamo non è pertinente ok nel nostro caso mettiamo non presente o comunque non pertinente ah ne è saltata una la recinzione ok anche in questo caso mettiamo non presente accesso pedonale in questo caso si utilizza l'ingresso dell'edificio quindi assolutamente sì lo spuntiamo ponteggio nel nostro caso non c'era ponteggio perché tutti i lavori avvenivano all'interno quindi non presente zone pericolose non ne avevamo ok quindi non no deposito di materiale da costruzione non è pertinente in questo caso perché veniva portato direttamente all'interno dell'appartamento o rimaneva all'interno del camioncino degli operai che parcheggiavano regolarmente quindi non serve deposito di materiale di risulta questa opzione non c'è spazio quindi smaltimento immediato deposito di materiali pericolosi non avevamo materiali pericolosi deposito del ferro non avevamo ferro docce non presenti dormitori non presenti perché gli operai se ne tornavano a casa visto che insomma era un cantiere in mezzo a una città impianto elettrico gruppo elettrogeno impianto di terra inglobato nel gruppo elettrogeno parafulmine collegato a quello di terra impianto di illuminazione a 220 volt impianto ad acqua potabile si utilizza quello dell'edificio refettori non ci servono servizi igienici si utilizza il WC del fabbricato spogliatoio utilizzo di un locale del fabbricato uffici non presente viabilità veicolare esterna non la intaccavamo minimamente perciò niente e pedonale idem poi viabilità interna di fatto non c'è una viabilità perché era un appartamento primo soccorso cassettina avvisatori acustici non ci servivano illuminazione di emergenza non ci serviva mezzi estinguenti solo estintori non era il caso acquedotto proprio no conduttura di metano anche no linea elettrica che attraversa il cantiere proprio no pugnatura che attraversa il cantiere no segnaletica di cantiere ovviamente la standard evacuazione del cantiere di fatto vengono seguite le norme generali ovviamente telefoni di emergenza non guassano mai possibilità di crollo delle strutture assolutamente no se ci viene giù l'intero palazzo abbiamo un altro tipo di problema incendio no inquinamento chimico no frana di scavo no allagamento dello scavo no scheda di comportamento in caso di infortunio sì stagione di svolgimento lavori era primavera o autunno comunque la mezza stagione poi documentazione da tenere in cantiere tutti i documenti previsti per legge scheda per la sorveglianza sanitaria certo bonifica da ordini bellici direi proprio di no lavori in luoghi confinati o sospetti di inquinamento no presenza di gas no modalità di accesso dei fornitori non è rilevante per questo cantiere in particolare misure di contrasto per il covid grazie a dio non c'era ancora il covid quindi no presenza di gas radon no ok ricontrollo un attimo e intanto ti vorrei far non fammi vedere queste le ho compilate sì perché non me le ha spuntate ok non l'ha presa allora facciamo così ok non me l'aveva acchiappata ok controlla sempre che ci sia la spunti cioè che te l'abbia presa quindi che o ti risulta o cancellata o spuntata perché chiaramente poi se no te la richiede dopo quindi in quel caso io ci avevo giocato un po' non me l'aveva presa allora ti vorrei far notare che si può attirare un sospiro di sollievo cioè quanto sarebbe facile laddove tu dovessi compilarlo a mano senza un ausilio senza l'aiuto di un software come questo quanto sarebbe difficile andare a tenere conto di tutte queste cose non solo ognuna di questa voce si porta dietro x fasi lavorative mezzi appressamenti dpi ed è veramente non perché magari uno non le sa ma è difficile tenere a mente e ricordarsi tutto questo invece avere un software che ti aiuta attraverso una procedura guidata come questa è di fondamentale importanza cioè io quando ho iniziato a fare i miei primi PSC ho detto oddio pensavo che era una cosa complicata ma così viene veramente semplice sì è semplice anche perché io software ha il supporto ovviamente non solo perché insomma siamo dei maghi assolutamente detto questo clicchiamo su avanti lui ci riflette un po' e ci genera il nostro cantiere con tutti i documenti necessari ci chiede anche che cosa dobbiamo allestire e smontare quindi ovviamente impianto elettrico del cantiere adile ok no questo non va rimosso ok sì lo possiamo lasciare così e clicchiamo su avanti altra cosa che ci chiede è quella di le fasi in cui sono inserite ciascuna a questo punto ci chiede quali sono gli apprestamenti le attrezzature che vogliamo usare quindi per esempio il vadile ci va fatto per l'impianto di terra del cantiere o l'impianto di protezione delle scariche e così via noi qua gli possiamo dire elimina oppure sostituisci sostituisci con che cosa e qua ci va a andare a pescare dall'archivio di Euclide che cosa andiamo ad utilizzare in questo caso possiamo dirgli elimina e anche qua elimina perché ci appoggiamo a quello già esistente macchinari autogru non ci serviva elimina invece il gruppo elettrogeno assolutamente sì e lo lasciamo esattamente così com'è quindi questa operazione la dobbiamo andare a fare per tutti gli strumenti che Euclide ci suggerisce in modo da averlo sempre il più possibile completo in questo caso io ho eliminato il badile e dove era il piccone che non ci servivano il resto lo lascio e vado a cliccare su Crea quindi il sistema riconosce le voci e i dati contenuti nel computo e li integra automaticamente nel piano di sicurezza permettendo la definizione delle misure preventive e la pianificazione delle operazioni in questo modo la gestione del cantiere viene ottimizzata riducendo gli errori e i tempi di elaborazione eccoci Euclide sicurezza ha terminato l'elaborazione dei dati e siamo finalmente all'interno dell'interfaccia quindi per prima cosa andiamo ovviamente a salvare passiamo a verificare le lavorazioni ok abbiamo le l'allestimento delle chiaramente tutto questo deriva dalla compilazione automatica che abbiamo fatto ok dobbiamo andare a specificare quindi chi fa cosa in questo caso diciamo la parte impiantistica era delegata all'impresa 1 tutto il resto lo faceva l'impresa 2 quindi per quanto riguarda le demolizioni invece se ne occupava l'impresa 2 poi chiaramente e in questo caso il pavimento e rivestimenti lavoratore autonomo ci terrei a farti notare la cura diciamo il dettaglio con cui Euclide per ogni fase crea tutte le rispettive sottofasi ciascuna con apprestamenti attrezzature macchinari pericoli dispositivi di protezione ed eventuali sostanze e rischi a cui la lavorazione è sottoposta quindi per ogni lavorazione non dobbiamo veramente praticamente pensare a niente perché Euclide ha già predisposto per ogni fase la relativa sottofase con tutti gli apprestamenti le attrezzature e i macchinari necessari tu devi solo verificare quanto scritto ed eventualmente fare delle aggiunte guarda quanto è utile avere il software giusto dalla tua perché per quanta competenza e quanta esperienza si può avere è veramente difficile doversi ricordare per ogni singola lavorazione tutti i rischi tutte le attrezzature tutti i dispositivi di protezione tutti i macchinari che possono essere necessari da elencare e inserire correttamente per poi completare il piano di sicurezza ovviamente laddove ci sono delle altre cose da fare chiaramente non sono finite qui possiamo andare a cliccare su append quindi laddove teniamo necessario integrare alcune voci andiamo a cliccare su append e andiamo a inserire quello che ci serve dal nostro database ok in questo caso non è che ci dobbiamo come vedi tutto è personalizzabile non è che ci dobbiamo tenere le lavorazioni così come escono fuori ma possiamo assolutamente personalizzare tutto quanto idem la descrizione inserire immagini eventuali controlli aggiuntivi e così via torniamo al nostro indice del cantiere quindi una volta che Euclide Sicurezza ha elaborato tutti i dati di input possiamo avvalerci di questa interfaccia che è molto intuitiva come puoi vedere per generare tutti i nostri documenti più o meno complessi in modo rapido ed efficace tutto può essere personalizzato quindi qua partiamo dai dati del cantiere abbiamo poi il piano di sicurezza compreso proprio del piano con gli indici degli argomenti e la stima dei costi per la sicurezza l'elenco dei post per quanto riguarda la fase esecutiva la documentazione richiesta e il registro di ogni fase e poi abbiamo tutto un corredo di altra documentazione come puoi vedere quindi fascicolo dell'opera PIMUS elaborato tecnico piano di rimozione e così via con la parte finale del registro dei documenti e ovviamente le opzioni di stampa quindi praticamente veramente in un'unica interfaccia riusciamo a inserire tutto quello che ci serve inoltre viene tenuta traccia delle verifiche periodiche quindi ogni volta si può migliorare il controllo della sicurezza e di quello che accade all'interno del cantiere ma veniamo un attimo noi allora la prima cosa che dobbiamo fare quando abbiamo terminato di compilare tutti i dati del nostro cantiere è ovviamente andare ad inserire i dati dell'opera quindi in questo caso io ovviamente lo faccio molto velocemente ok quindi ristrutturazione appartamento qua stiamo se io lo devo fare fatto bene per questo per questo per questo diciamo lavoro ci siamo una giornata chiaramente ti devo condensare tutta una serie di informazioni all'interno di un unico video quindi perdona diciamo la superficialità di alcune compilazioni ok vabbè ovviamente qua ci andiamo a mettere delle informazioni in più io qui chiaramente mi sbrigo qui vado invento una via via bixio numero uno ok e lo metto a latina ok dopodiché andiamo a mettere i dati del cliente questo è il nostro fantastico Mario Rossi ovviamente qua ci si vanno a mettere delle informazioni in più quindi l'ubicazione del cantiere magari ci mettiamo anche i dati cadastali per esempio o per quanto riguarda il committente non mettiamo solo il nome e cognome ma vabbè queste in realtà vanno sulla copertina quindi in realtà queste informazioni possono andare bene anche solo così perché poi queste informazioni ce le ritroviamo sulla copertina del PSC quindi in realtà meglio non approfondirle troppo però andiamo a vedere altri dati allora inizio cantiere beh 3012 direi proprio di no soprattutto del 1899 facciamo il primo marzo del 2024 va bene anche così no primo marzo ma primo ottobre diciamo primo ottobre 2024 durata 60 giorni importo dei lavori 30.000 euro entità presunta dei uomini giorno possiamo o mettere il numero se lo conosciamo ok oppure possiamo andare a dire tutta una serie di informazioni quindi se la notifica preliminare è obbligatoria se c'è la redattazione del duvri del PSC quindi in questo caso ovviamente di sì e così via ovviamente in questo caso abbiamo due imprese se no che ci stiamo a fare quindi ti faccio notare che come io metto i dati quindi metto due imprese automaticamente si sblocca il piano di sicurezza e coordinamento quindi lui te lo compila se io metto 180 uomini giorno ecco che di nuovo abbiamo l'invio della notifica abbiamo l'invio della notifica preliminare chiaramente la creazione del piano di sicurezza si porta dietro anche la redazione dei post e così via quindi io qui chiudo e lascio così data effettiva di inizio lavori vogliamo essere ottimisti e facciamo mettiamo la stessa data effettiva di fine lavori diciamo non lo sappiamo ancora ma ipotizziamo che terminano il primo dicembre ok e quindi qua abbiamo compilato questa prima parte poi abbiamo le imprese allora in questo caso dobbiamo andare a cliccare su appendi quindi aggiungere una nuova impresa sì ok e qui abbiamo tutte le informazioni allora ovviamente adesso qua non mi metto a compilare tutto metto solo impresa 1 ok e ovviamente ci sarà siccome stiamo facendo chiaramente questo perché ci sono due più imprese ci sarà almeno un'altra impresa ok che qua impresa 2 ok dove ovviamente che cosa dobbiamo andare a mettere tutti i dati dell'azienda ok quindi la sede legale la sede operativa se ci sono uffici di cantiere ma magari no magari ne compiliamo una sola documenti amministrativi quindi partita IVA ecco via quali sono i soggetti con i compili di sicurezza dipendenti macchinari allora tutto questo è spiegato ampiamente all'interno del mio corso cantiere 360 come andare a reperire questi documenti cose quali documenti sono da fare compilare all'impresa come e quando fare la notifica preliminare che abbiamo visto prima e così via quindi ovvio qua possiamo aprirci un mondo su tutte queste cose io qua ti voglio mostrare che chiaramente qua uno è tutto da compilare idem se ci sono dei lavoratori autonomi stessa cosa andiamo clicchiamo col destro appendi e gli diciamo di sì ovviamente laddove ci sono ok chiamiamo così questi per i lavoratori autonomi mi è più facile sono tutti i dati da compilare quindi questa diciamo è proprio l'anagrafica del cantiere e andiamo a vedere un attimo l'indice degli argomenti del nostro piano di sicurezza e coordinamento quindi non è che andiamo direttamente su stampa stampa dove è stampa vsc e così insomma no ovviamente può essere tutto visionato e tutto modificato quindi abbiamo una parte introduttiva abbiamo l'identificazione e la descrizione dell'opera con l'ubbligazione del cantiere tra parentesi in questo caso quando vedi queste cose con il dollaro ovviamente non le devi cambiare perché questo è un richiamo a che cosa a quello che abbiamo scritto qua ubicazione del cantiere quindi questo vuol dire che ci si andrà a riprendere quell'informazione scritta lì quindi queste cose non vanno cancellate se no Euclide non si fa i richiami da una parte all'altra descrizione sintetica dell'opera ovviamente anche questo se la va a riprendere nella home il layout di cantiere anche questo te lo spiego nel corso cantiere 360 in maniera dettagliata tutta la parte di anagrafica chi è il committente il responsabile dei lavori il coordinatore indovina dove ci sono tutte queste informazioni quindi per esempio coordinatore quindi in questo caso indicare i dati del CSE non o del coordinatore non li abbiamo ancora indicati quindi possiamo se non l'abbiamo fatto prima andare a cliccare sul destro e dirgli di prelevare i dati i dati dall'archivio quindi appendi paragrafo dall'archivio perdona ma archivio professionisti ecco qua in questo caso ci sono già salvati i miei dati quindi io qua avevo già messo tutto quanto come puoi vedere e quindi clicco su inserisci e mi sono autoinserita e così via quindi documentazione da tenere in cantiere queste sono tutte le cose che noi abbiamo specificato all'inizio quindi lui va a mixare tutta una serie di cose preimpostate che noi abbiamo specificato all'inizio con le informazioni che a mano a mano gli andiamo a dare e a personalizzare ovviamente non è che va preso per buono è chiaro che è fatto bene e che è fatto secondo gli adempimenti normativi ok ma tutto è personalizzabile quindi te lo devi leggere ok ti devi andare a leggere e vedere se c'è tutto quello che avevi pensato se va modificato qualcosa e così via cioè non prendere ovviamente sì che è buono ma va chiaramente contestualizzato al tuo cantiere quindi ti devi leggere ogni singola parte e poi magari ne prenderai confidenza e non avrai ogni volta nelle volte future necessità di andare a inserire sempre tutto quanto ma chiaramente la prima volta almeno ti devi andare a leggere tutto quello che c'è scritto anche perché lo firmi tu ok quindi assolutamente no ovviamente non possiamo terminarlo qui infatti se andiamo a vedere ci sono due cose fondamentali che sono presenti all'interno del PSC due più di una cosa fondamentale ovviamente il layout di cantiere va generato a parte e caricato come immagine la stima dei costi per la sicurezza lui si va a richiamare la stima dei costi per la sicurezza che noi qui dentro non abbiamo ancora fatto quindi la andiamo a vedere e per quanto la pianificazione dei lavori il diagramma di Gantt che noi dobbiamo andare a generare all'interno del nostro della nostra interfaccia infatti abbiamo la pianificazione dei lavori che ci porta a dritti spediti al diagramma di Gantt e la stima dei costi per la sicurezza come visto in questo caso quindi dobbiamo ovviamente compilare tutto assicurarci che tutto sia compilato fatto e sistemato per poter andare a appunto ultimare poi la stampa del piano di sicurezza e coordinamento dopo aver impostato tutta la parte di composizione del nostro cantiere la fase successiva è stimare i costi per la sicurezza dentro Euclide Sicurezza Cantieri questo è un processo integrato e semplificato che consente di ottenere una valutazione precisa delle spese necessarie a garantire la sicurezza in cantiere quindi dopo aver redatto il PSC il software permette di collegare direttamente le voci di lavorazione ai costi associati alle misure di sicurezza come dispositivi di protezione segnaletica impianti di sicurezza e altre attrezzature necessarie Euclide consente di impostare le voci di computometrico e di associarle ai costi della sicurezza specifici integrando queste informazioni nel calcolo complessivo il software inoltre ovviamente dà la possibilità di aggiungere o modificare manualmente i costi personalizzandoli in base alle esigenze specifiche del cantiere e alla fine del processo si ottiene un documento dettagliato che quantifica i costi della sicurezza facilitando la pianificazione finanziaria e garantendo che tutte le misure preventive siano adeguatamente considerate e ovviamente finanziate come andiamo a fare la stima abbiamo visto l'indice degli argomenti vediamo la stima dei costi per la sicurezza allora qualcosa c'è già quindi da quello che abbiamo impostato qualcosa Euclide sicurezza se l'è già ricavato come puoi vedere manca di inserire le quantità quindi perché altrimenti lui non si può fare i totali quindi io vado a inserire le quantità che fra parentesi qui possono essere anche messe a mezzo di formula laddove ne avessimo la necessità e come tipologia voce o categoria sta benissimo la voce quindi io procedo a inserire le quantità apparecchi ne mettiamo tre copri capi abbiamo tre operai ne mettiamo tre scarpe tre cucchiale tre siera tre guanti tre ovviamente non abbiamo finito qui ok ok chiaramente qualcosa manca allora come andiamo a completare la stima dei costi per la sicurezza tasto destro con il mouse nel vuoto andiamo a cliccare su appendi ok ci andiamo a prendere nel mio caso sempre il prezziario della regione Lazio quello più aggiornato in questo caso 2023 e qui abbiamo tutti i costi per della sicurezza quindi se per esempio misure di colore all'uso in comune di impianti non lo so che cosa andiamo a fare il costo orario la mano d'opera ok sì per esempio spunto questa ovviamente qua te le puoi andare a vedere tutte quindi interventi per lo sfasamento spaziale ce n'è ce n'è un'abbondanza di cose che possiamo andare ad inserire quindi questo te lo devi comunque andare a guardare tutto per vedere se in questo elenco manca qualcosa per completare il tuo il tuo psc per esempio dove era quelle per il primo soccorso non ho visto il kit quindi ce lo vado a mettere ambulanza la 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 dov'è quindi per esempio leva schegge e lava occhi non è che ci fanno mai male tenercele in cantiere per esempio e posso scegliere non sempre di spuntarle ok in questo modo come vedi e vado a completare sempre la mia quantità quindi metto qua ipotizzo 10 ore poi chiaramente queste cose vanno valutate per cantiere e comunque aggiornate non è che una volta che fa il psc è finito ok per esempio in questo modo qua e possiamo procedere così quindi si va a fare tutta la stima dei costi per la sicurezza che poi come hai visto viene automaticamente richiamata e integrata all'interno del psc fra l'altro se all'interno del tuo computometrico in questo caso fatto su Euclide erano previste già delle voci di questo tipo le puoi tranquillamente trascinare con il drag and drop direttamente qui dentro quindi questa è un'operazione in più con cui puoi andare ma finora questi sono solo i documenti per avviare il cantiere di fatto i lavori non sono ancora partiti e un documento fondamentale una fase fondamentale è la pianificazione dei lavori attraverso il diagramma di Kant altro documento che possiamo redigere dentro Euclide sicurezza cantieri questa fase è molto importante perché il diagramma di Kant ci permette di individuare tutte le fasi tutte le lavorazioni come sono distribuite nel tempo se si possono accavallare perché il cantiere presenta delle zone diverse non è il nostro caso essendo un solo appartamento quindi noi avremo un'unica area di cantiere che è quella appunto dell'appartamento ma laddove il cantiere può essere divisibile con magari accessi separati è possibile segnalare delle zone delle aree diverse e gestire di conseguenza le lavorazioni il diagramma di Kant è anche quello strumento che ci permette di capire se ci sono delle interferenze quindi se ci sono delle lavorazioni che si sovrappongono a livello spaziale di utilizzo della manodopera di utilizzo dei mezzi perché se stiamo utilizzando la gru per fare una cosa non la possiamo usare per fare un'altra ok visto che in genere la gru è una se il cantiere è piccolo quindi durante tutta questa fase sì di pianificazione ma anche di continuo aggiornamento in base alle esecuzioni dei lavori il software ci permette di monitorare tutte le misure di sicurezza che vanno anche associate a queste lavorazioni e che ci sono dettate dal piano di sicurezza e coordinamento facilitandoci non poco la verifica della conformità con le normative vigenti tutte le informazioni relative ai rischi e alle misure preventive possono essere aggiornate in base ai progressi e alle esigenze del cantiere che come sappiamo è in continua evoluzione e trasformazione difficilmente un cantiere inizia e finisce come ce l'avevamo nella nostra testa dobbiamo sempre stargli dietro perché chiaramente le cose cambiano e di volta in volta bisogna aggiornare la documentazione sempre all'interno di Euclide sicurezza e cantiere possiamo andare a generare la tabella delle interferenze in cui si evidenzia in caso la sovrapposizione temporale o fisica di più lavorazioni di conseguenza anche i rischi da considerare nella fase di esecuzione e andiamo a vedere invece questa volta la pianificazione dei lavori allora abbiamo tre modalità per fare la gestione del diagramma di Kant un modulo intero sulla creazione del diagramma di Kant è contenuto sempre all'interno del mio corso cantiere 360 proprio perché non è una banalità andare a fare il diagramma di Kant ma anche qui abbiamo assolutamente una guida per poterlo andare ad affare quindi abbiamo l'imputazione diretta dei giorni lavorativi questo vuol dire che ce lo devi andare a mettere tu a mano tramite analisi economica delle lavorazioni molto più fattibile ed efficace secondo me anche perché hai un computometrico di partenza quindi tanto vale utilizzarla o preleva pianificazione da altro documento non è questo il caso quindi in questo caso andiamo a mettere qui l'analisi economica delle lavorazioni e clicchiamo su ok allora in questo caso dobbiamo avendo il computo alla mano andare a mettere l'importo di ciascuna lavorazione quindi ti faccio un esempio per l'installazione del gruppo elettrogeno esempio 500 euro percentuale del manodopera quindi adesso sto mettendo dei numeri a caso importo di conseguenza della manodopera il costo orario 30 ore lavorative vabbè 4 se l'è fatto lui chiaramente numero uomini 1 e lui automaticamente ricava i giorni lavorativi ok quindi si può procedere in questo modo oppure altra modalità l'imputazione diretta dei giorni lavorativi in questo caso se gli diamo l'ok andiamo a specificare quanti uomini ci sono per ogni cosa quindi è chiaro che ovviamente questo non è cioè questo link da da mandare avanti ok quindi da ampliare noi in questo caso andiamo a fare la data prevista dei lavori è sempre il primo ottobre 20 24 ok quindi una volta che abbiamo completato l'imputazione manuale di numero uomini e giorni lavorativi io adesso qua ho messo dei numeri molto a caso e molto approssimativi ti voglio far vedere semplicemente come funziona la creazione del diagramma di Kant andiamo a mettere la spunta sul collega automaticamente le fasi perché questa cosa è importante se in un momento successivo andiamo a spostare una data di un qualcosa se non mettiamo questa spunta tutte le altre non vengono scalate di conseguenza quindi se per esempio la prima fase mi slitta di 10 giorni perché i lavori non possono iniziare se io vado a cambiare la data nella prima e non ho messo la spunta qua tutte le altre non cambiano a cascata ok quindi questo è un problema quindi noi mettiamo la spunta in modo tale che le fasi rimangano sempre collegate tra di loro e clicchiamo su ok allora questo è il nostro diagramma di Kant ovviamente ripeto non è assolutamente esaustivo così com'è ci sono tante cose che insomma tante lavorazioni che mancano tante cose che vanno considerate e quindi andiamo un attimo insomma qua questo prendilo sempre come un video esemplificativo allora andiamo a vedere un attimo che cosa possiamo andare a fare quindi viste le tre modalità con cui si può generare un diagramma di Kant e visto come possiamo andare a collegare automaticamente le fasi andiamo a vedere cosa possiamo fare con il diagramma di Kant allora qui intanto nelle operazioni possiamo appendere una nuova fase lavorativa quindi ok andare a inserire delle fasi o di un periodo duplicare o eliminare quelle esistenti aggiornarlo visualizzarlo a pagina intera che poi tra l'altro questi sono questi stessi tool qui che sono graficizzati che si ripetono alcuni espandere tutte le fasi o chiuderle spostare le fasi lavorative quindi per esempio questa la voglio spostare di due giorni lavorativi ok e di conseguenza proprio perché abbiamo messo quella spunta come vedi viene tutto slittato quindi se no se ne è andata se ne partiva solo una e la restante no poi cos'altro possiamo andare a fare possiamo spostare solo alcune fasi ricadenti in alcune date interrompere il cantiere perché magari la data di interruzione per esempio il 10 10 24 succede qualcosa e il cantiere si interrompe per 5 giorni lavorativi per esempio ok ed eccola qua visualizzata possiamo andare a riordinare il diagramma per data o per zona laddove chiaramente avessimo impostato le zone ok in questo caso per noi le zone non ci sono le abbiamo impostate all'inizio quindi chiaramente rimane tutto così possiamo verificare il calendario questa è una cosa molto importante perché per esempio possiamo verificare le festività se ci sono delle festività che abbiamo necessità di aggiungere o di non considerare addirittura cosa insomma che non andiamo a fare o se per esempio il sabato può diventare un giorno parzialmente lavorativo con 4 ore ok o altrimenti laddove così non fosse andiamo a toglierlo e lo lasciamo a zero quindi questo è importante perché vuol dire che il nostro come vedi il nostro diagramma di Kant va a separarsi a interrompersi laddove ci sono i giorni festivi possiamo andare ad impostare le zone in questo caso come vedi il colore rosso è quello che ci indica la nostra zona che possiamo scegliere di cambiare se non ci piace rosso se abbiamo più zone ovviamente andiamo a vedere quale lavorazione rientra in quale zona ma non è il nostro caso lo possiamo andare ad esportare a zerare e laddove non avessimo fatto quella spunta all'inizio possiamo andarla a rimettere qui ok quindi questa è una cosa interessante quindi se ti sei scordato di collegare le fasi all'inizio puoi sempre andare su operazioni creazione guidata di Kant e qua ce la vai a rimettere ok poi qua abbiamo delle operazioni molto simile quindi l'aggiornamento il ridimensionamento delle barre una diciamo carina è questa delle zone del cantiere ma come puoi vedere sono praticamente le stesse operazioni che trovi qui ok sono graficizzate con delle icone quasi tutte in questa parte qua c'è qualcosa di diverso come per esempio la stampa quindi stampa della pianificazione dei lavori e così via quindi come vedi è uno strumento molto versatile e comodo per poter fare per poter seguire l'andamento dei tuoi lavori una volta impostato il diagramma di Kant possiamo anche scegliere di andare a verificare la tabella stampabile delle interferenze possiamo sceglierla con indicazione delle date o senza indicazione delle date di tutti i rischi trasmessi evidenziazione dei rischi trasmessi relativi solo alle sottofase noi facciamo tutto e con indicazione delle date e il risultato eccolo qui è questa tabella che poi in realtà di fatto adesso te la sto solo facendo vedere verrà inclusa automaticamente all'interno del PSC quindi non serve stamparla a parte perché poi il PSC la includerà in automatico potremo quasi concludere questo video qui ma ti ho riservato una chicca finale non da poco infatti ti voglio diciamo far riflettere su un'esigenza quando il coordinatore si trova a recarsi in cantiere per fare i suoi sopralluoghi ovviamente non è che basta che fa due foto e affinito deve redigere anche un apposito verbale e quindi questo vuol dire che quando va là si non solo si prende diciamo fa delle foto ma si prende anche degli appunti su come sta andando il cantiere se le misure di sicurezza vengono rispettate se vanno fatti dei richiami e così via quanto sarebbe bello poter fare tutto questo velocemente su un telefono e ritrovarsi quello che si ha appuntati è già pronto su un verbale quando si torna a studio normalmente si prende carta e penna magari si scrive due cose sul telefono ma poi tutto questo va trasformato a mano in un verbale invece Euclide ci mette a disposizione un'app fantastica l'app appunto di Euclide Sicurezza che si installa proprio comodamente sul telefono e si collega al database generale di Euclide basta con il semplice login quindi con le stesse credenziali con cui entri nella tua area riservata di Euclide della Geo Network per scaricare i preziari e i software con le stesse credenziali entri nell'app quindi questo collega immediatamente ti collega all'unico portale del tuo account e che cosa puoi fare? Tramite appunto l'app e in particolare la creazione di checklist puoi creare dei file di interscambio dati in ingresso e in uscita quindi in uscita dal software di sicurezza in ingresso dal telefono dove vai a fare tutte le verifiche vai a fare tutte le annotazioni e le cose necessarie di nuovo in uscita dal telefono verso il database Euclide e di nuovo in ingresso nel software per scaricare tutte le informazioni che hai raccolto sulla tua app quando ti trovavi in cantiere in questo modo puoi avere la redazione semi-automatizzata dei verbali di sopralluogo che non è assolutamente poco o ancora meglio se puoi delegare questa parte se magari tu sei il coordinatore e stai già in cantiere a prendere tutte queste annotazioni sull'app e hai un collaboratore a studio che si può collegare te le può già scaricare quando hai finito il sopralluogo e il tempo che ritorni in ufficio il mondo ideale ti ha già redatto il verbale di sopralluogo che tu devi solo controllare e firmare però potrebbe essere potenzialmente fattibile viceversa ovviamente se fai tutto tu ti ritrovi già un verbale già precompilato almeno in alcune parti per consentire l'interscambio dati con l'app che ho già scaricato e installato sul mio telefono mi devo recare nella parte della fase esecutiva nel registro eccolo qua della fase esecutiva in questo caso come puoi vedere questa è l'unica interfaccia in cui è attivo il tool appunto in questione dell'utilizzo dell'app ma prima dobbiamo creare una checklist o un verbale di ispezione da ovviamente portarci in cantiere quindi tasto destro andiamo a cliccare su appendic che cosa possiamo fare un verbale di ispezione un verbale di ispezione da checklist una contestazione all'impresa segnalazione al committente linea d'impienza comunicazione all'asle ordine di sospensione per gravi lavori o ripresa dei lavori insomma e così via checklist annotazioni insomma comunicazioni di servizio possiamo fare veramente di tutto allora noi andiamo a fare in questo caso un verbale di ispezione quindi all'interno del verbale di ispezione andiamo a mettere la data dell'ispezione ipotizziamo vabbè in questo caso andiamo a mettere il per esempio 10 10 ok 24 ore 11 e 37 andiamo a insomma a fare queste ipotesi di date e così via l'esito lo andiamo diciamo questo lo andiamo solo a preparare data di stesura andiamola a fare il 12 10 ok 24 perfetto e qui possiamo andare a mettere non solo i controlli e le verifiche ma anche la documentazione fotografica ma noi dobbiamo ancora andarci in cantiere quindi ovviamente non abbiamo documentazione fotografica ma possiamo preimpostare i controlli e le verifiche tasto destro quindi appendi da archivio e qui abbiamo tutte le nostre cose eccole qua quindi andiamo a mettere ogni operazione così da controllare quindi tutto è da verificare ok per quanto riguarda il fascicolo dell'opera il post il psc il cantiere come vedi c'è molto che possiamo andare a inserire clicchiamo su ok e abbiamo fatto ovviamente qui non andiamo a mettere nulla perché tutto questo lo andiamo a fare da app tutte le nostre verifiche possiamo anche andare a mettere per esempio la revisione del piano di sicurezza e coordinamento ok ok e adesso che abbiamo fatto intanto salviamo poi andiamo a cliccare su qui qua sopra e andiamo a esportare il cantiere in xml ok ci chiede di loggarci quindi fare il login io gli dico qua memorizza la password clicco su avanti ok mi dice che il login è effettuato e di completare l'operazione cliccando su fine il cantiere è stato correttamente esportato perfetto allora a questo punto mi reco sulla mia app sono entrata all'interno della mia app per prima cosa devo andare ad importare il cantiere devo effettuare sempre il login ovviamente perché così mi collego al mio portale di GeoNetwork e quindi effetto il login come sto facendo in questo momento ok ed ecco il mio cantiere quindi importare il cantiere selezionato assolutamente sì ok importazione del caso studio certo ok e andiamo a vedere quali sono le verifiche da fare quindi clicco qua su verifiche di cantiere ecco che mi appare il mio cantiere con le informazioni principali che io ho precedentemente inserito quindi ho l'indirizzo il chi è il committente che cosa di che cosa si tratta ci clicco sopra ed ecco che mi trovo il mio verbale di ispezione quindi clicco sul verbale e qui ho tutte le cose che io ho inserito che posso andare a verificare dire qual è con esito positivo dire cos'è da sospendere e così via diciamo che siamo magnanimi e che facciamo che va tutto bene posso inoltre cliccare e immettere per esempio quali sono qua gli ordini impartiti quindi che ne so rivedere per esempio rivedere adesso scrivo delle cose insomma così quindi si può entrare in ogni voce e modificarla ok piuttosto che aggiungere delle note semplicemente ecco come in questo caso andandoci a cliccare sopra continuo la mia opera qua ok per esempio questa lì posso dire che è da sospendere così via seguo faccio tutto quello che sta perché non è detto che vanno fatti tutti chiaramente qualcuno magari questo no per esempio questo è ancora da fare per esempio in questo modo fare ok poi vado avanti quando ho terminato se ci sono delle cose in più che voglio fare posso cliccare qua sopra in alto a destra su aggiungi ok quindi posso aggiungere una fase come voglio io con il sottotitolo e così via posso dire che è un esito positivo per esempio la fase poteva essere lo smaltimento lo so smaltimento materiali pericolosi ok per esempio esito positivo e così via e ho aggiunto una cosa in più quando ho finito torno indietro ok posso aggiungere ulteriormente delle descrizioni quindi se ho delle note delle cose da fare oltre al verbale posso aggiungere per esempio delle note in questo modo una piccola descrizione breve che ne so l'operaio X l'operaio non si è presentato per esempio così e via oppure era malato non lo so torniamo indietro ok alla home quando abbiamo terminato dobbiamo esportare con questo tool eccolo qua esporta cantiere le nostre operazioni ok esportazione completata ok dopo che ho cliccato sul cantiere quindi a questo punto posso chiudere la mia app e tornare su Euclide sul mio computer eccoci tornati all'interno del computer questa volta andiamo su Euclide in porta cantiere ok ovviamente eccolo qua il caso studio andiamo a cliccare su avanti andiamo a cliccare sui documenti che vogliamo importare quindi andiamo a selezionare l'ispezione che vogliamo importare clicchiamo su fine ok ed eccolo qua quindi ecco il nostro verbale di ispezione compilato con così come avevamo fatto all'interno del nostra app questa è una cosa devo dire non da poco quindi è estremamente comodo perché come puoi vedere mi riporta tutte le cose che c'è un sincrono perfetto fra l'app e il software in modo che ci si può diciamo agevolare molto nella redazione della documentazione quindi una volta che abbiamo terminato tutto abbiamo inserito tutti i dati di tutte le imprese di tutti i lavoratori del cantiere abbiamo inserito abbiamo controllato l'indice del PSC e abbiamo verificato o aggiunto quello che mancava fatta la stima dei costi per la sicurezza verificato tutto l'elenco dei post messa eventualmente fatte le dovute aggiunte e verifiche ispezioni e completati l'ulteriore documentazione e completata la documentazione finale possiamo passare alle opzioni di stampa e frontespizio andiamo a verificare che tutti i dati siano corretti e una volta fatto possiamo procedere con la stampa fra parentesi possiamo fare la stampa del PSC dei post del singolo diagramma di Gant della tabella delle interferenze con tutte le eccole qua con tutte le indicazioni delle date o dei rischi trasmessi alle sottofasi e così via noi adesso andiamo a fare la stampa del PSC vogliamo anche l'indice completo e clicchiamo su stampa lui si stampa le sue millemila pagine di PSC e aspettiamo un attimo eccolo qua è arrivato ok questo è il nostro fantastico PSC ovviamente molto appena sbozzato diciamo adattiamolo un attimo ok quindi questo è il nostro PSC con l'introduzione sono la bellezza di 71 pagine adesso io sfido a andare a creare una cosa del genere da solo cioè per carità si può fare però ti serve un database da cui attingere non da poco ok quindi in questo caso come vedi insomma c'è veramente tanto come puoi vedere e sarebbe veramente difficile andare a fare tutto questo senza un software di ausilio come può essere in questo caso Euclide Sicurezza Cantieri quindi questo è tutto l'elenco dei rischi come possiamo vedere c'è veramente di tutto la segnaletica l'organizzazione attenzione il diagramma di Kant con la pianificazione dei lavori le interferenze tra le lavorazioni che abbiamo creato la durata delle lavorazioni la stima della sicurezza l'indice delle schede quindi questo è tutto il nostro PSC preso e compilato grazie all'ausilio di Euclide Sicurezza Cantieri In conclusione quindi Euclide Sicurezza Cantieri è un ottimo software per gestire la sicurezza del tuo cantiere prevenire incidenti grazie alla segnalazione dei rischi riscontrabili per ogni tipo di lavoro è ormai scelto già da molti professionisti proprio per la sua completezza e versatilità sia sin dalla fase di progettazione fino alla fase esecutiva anche perché ha un controllo interno di verifica degli adempimenti che segnala eventuali dimenticanze o incongruenze nella compilazione dei documenti stessi quindi ti aiuta veramente a 360 gradi a produrre correttamente tutta la documentazione necessaria a questo punto voglio farti complimenti perché sei arrivato alla fine del video e non te ne andare proprio ora perché ci sono i regali che ti avevo promesso il mio primo regalo per te è un codice sconto del 20% per l'acquisto di Euclide Sicurezza Cantiere il codice è ADARAEQ e fai attenzione perché non dura per sempre ha una durata limitata quindi lo trovi in sovrimpressione sfruttalo se desideri acquistare Euclide Sicurezza e Cantieri il mio secondo regalo per te è invece un regalo di carattere formativo se infatti desideri approfondire le conoscenze dei documenti che sono necessari per il cantiere ti do accesso gratuito alle mie pillole di cantiere un mini corso completamente gratuito con cui puoi andare a approfondire tutta una serie di temi se poi vorrai ulteriormente diventare padrone della materia c'è il corso professionale Cantiere 360 in cui avrai un pacchetto di informazioni complete e aggiornate e assistenza H24 sui documenti di cantiere chiavi in mano come ottenere questi due fantastici regali compila l'apposito form che trovi linkato sotto a questo video e compilalo con tutti i tuoi dati in particolare con la tua email fai attenzione a scrivere correttamente la tua email perché via mail riceverai il codice in promemoria e il link al mio corso gratuito io ti saluto e ti aspetto al prossimo video ciao